In quel momento Will fu colpito dal pensiero che l'uomo potesse essere uno di quei parassiti politici dal temperamento borioso che un paio di volte avevano asserito di conoscerlo per averlo udito parlare sulla questione della riforma e che pensasse di procurarsi uno oscellino offrendogli delle notizie. Sotto questa luce quella persona, che provocava già un certo calore nell'osservarla in una giornata d'estate, sembrava ancora più sgradevole e Will, semiseduto su un bracciolo di una poltrona dal giardino, distosse accuratamente gli occhi da lui. Ma il gesto non sortì in nessun risultato con la nostra conoscenza. Mr. Ruffles, il quale non esitava mai a imporsi a chi non aveva voglia di osservarlo, se ciò tornava utile ai suoi scopi. Rispostò di un paio di passi, minchè non si trovò di fronte a Will, e disse in fretta con voce risonante, scusatemi, Mr. Ladislav, vostra madre si chiamava Sara Dunkrick? Will scattato in piedi, indietro già di un passo, aggrottando le ciglia e dicendo con una certa focosità, sì signore, si chiamava così, e questo che importanza ha per voi? Era nella natura di Will che la prima scintilla che scoccava fosse una risposta diretta alla domanda e una sfida alle sue conseguenze. Aver detto, e questo che importanza ha per voi subito, sarebbe sembrato un tergiversare, come se gli importasse di chi sapeva qualcosa sulle sue origini. Ruffles, dal canto suo, non aveva lo stesso desiderio di uno scontro, quale era sottinteso dall'aria minacciosa di Ladislav. L'esile giovanotto, col suo viso femmino, sembrava un gatto pardo pronto a balzarli addosso. Date le circostanze, il piacere di Mr. Ruffles di irritare chi gli stava vicino, fu tenuto a freno. Non volevo offendere, mio buon signore, non volevo offendere. Mi ricordo solo di vostra madre. L'ho conosciuta quando era una ragazza. Ma avete tratti di vostro padre, signore? Ho avuto il piacere di vedere anche vostro padre. I vostri genitori sono ancora vivi, Mr. Ladislav? No, tornò Will con lo stesso atteggiamento di prima. Sarei felice di rendervi un servizio, Mr. Ladislav. Per giove lo sarei. Spero di incontrarvi ancora. Detto questo, Ruffles, che alle ultime parole se l'ha sollevato il cappello, si girò con un movimento della gamba e uscì. Will lo seguì con lo sguardo un momento e vide che non rientrava nella sala delle aste, ma parvi incamminarsi verso la strada. Per un attimo pensò di aver commesso una stupidaggine a non lasciar continuare a parlare quell'uomo. Ma no, tutto sommato, preferiva fare meno di informazioni da una fonte simile. Più tardi, quella sera comunque, Ruffles lo raggiunse per strada e, sembrando dimentico della precedente rude accoglienza o desideroso di vendicarsi di questa con un'indulgente familiarità, lo salutò con aria gioviale e prese a camminarli accanto, facendo da prima osservazioni sugli aspetti piacevoli della città e dei dintorni. Will, in un primo tempo, ebbe il sospetto che l'uomo avesse bevuto e stava pensando a come potersi liberare di lui quando Ruffles disse. «Sono stato all'estero anch'io, Mr. Ladislav. Ho visto il mondo. Conoscevo un po' di francese. È stato a Boulogne che ho visto vostro padre. Li assomigliate in modo fuori del normale per giove. Bocca, naso, occhi, i capelli allontanati dalla fronte, proprio così, un po' alla moda degli stranieri. A John Bull non piace molto così. A vostro padre era assai ammalato quando l'ha incontrato. Dio, dio, delle mani attraverso le quali si poteva vedere. Voi eravate un giovannotello allora. Si è ristabilito?» «No», disse Will brusco. «Ah, beh, mi sono spesso chiesto cosa ne sia stato di vostra madre. Scappò via dai suoi parenti quando era una ragazza, una ragazza dello spirito orgoglioso e carino per giove. Io sapevo perché era scappata», disse Ruffles facendo lentamente l'occhiolino mentre guardava di sbieco Will. «Voi non sapete nulla di disonorevole su di lei, signore», disse Will volgendosi verso di lui con aria quanto inferocita. Ma per ora Mr. Ruffles non era sensibile a sfumature di comportamento. «Nulla di nulla», disagitando la testa con aria decisa. «Aveva un po' troppo il senso dell'onore per voler bene ai suoi. Ecco cos'era». A questo punto Ruffles fece di nuovo lentamente l'occhiolino. «Che Dio vi benedica! Sapevo tutto di loro. Erano un po' in quella che si può chiamare la rispettabile attività del furto. Il gran stile della casa di ricettazione, non quelle faccende furtive di primo ordine. Negozio di lusso, profitti elevati e niente sbagli. Ma, signore, Sarah non vuole saperne nulla. Era una ragazza focosa, ottima scuola privata, buona per essere la moglie di un lord, solo che Erky Duncan glielo sputa in faccia per dispetto perché non voleva saperne di lui. E così scappò da tutta la faccenda. Io viaggiavo per loro, signore, in un modo distinto, con un lauto stipendio. Allora non importò in principio che lei fosse scappata. Gente devota, signore molto devota. E lei si mise a recitare in teatro. Allora il figlio era vivo e la figlia era tenuta in scarsa considerazione. Salve, eccoci al Blue Ball. Cosa ne dite, Mr. Ladisla? Vogliamo entrare e farci un bicchiere? No, devo darvi la buonasera, disse Will, imboccando con un fulmine. Una stradetta che portava l'Hawake Gate mettendosi quasi a correre per allontanarsi dalla portata di Raffles. Camminò a lungo per la Low Wake Road, allontanandosi dalla città, felice dell'oscurità stellata quando calò. Si sentiva come se gli avessero scagliato addosso del sudiciume fra grida di disprezzo. C'era questo conferma di quanto aveva detto l'uomo, che sua madre non gli aveva mai voluto dire il motivo per cui era fuggita dalla famiglia. Bene, lui, Will Ladislav, quando aveva da rimetterci, supponendo che la verità su quella famiglia fosse delle peggiori, sua madre aveva sfidato le sofferenze per distaccarsene. Ma se i parenti di Dorotea avessero conosciuto questa storia, se l'avessero conosciuta i Chetam, essi avrebbero avuto una bella giustificazione da dare ai loro sospetti, un motivo gradito per considerarlo non adatto ad avvicinarla. Comunque, che sospettassero quello che volevano, avrebbero scoperto di aver torto, avrebbero scoperto che il sangue che scorreva nelle sue vene era esente quanto il loro da macchie di bassezza. Capitolo 61 La stessa sera, quando Mr. Balstrofece ritorno da un viaggio di affari a Bressing, la sua brava moglie gli andò incontro nel salone d'ingresso e lo condusse nel suo salotto privato. Nicholas, disse fissando con ansia quegli onesti occhi su di lui, è venuto qui un uomo così sgradevole a chiedere di voi. La cosa mi ha messo veramente a disagio. Che genere di uomo, cara? chiese Mr. Balstrofe, terribilmente certo della risposta. Un uomo dalla faccia rossa e grandi basettoni e dal modo di fare assai impudente. Ha affermato di essere un vostro vecchio amico e ha detto che vi sarebbe dispiaciuto non vederlo. Voleva attendervi qui, ma io gli ho detto che vi avrebbe potuto vedere in banca domani. È stato assai impudente, mi ha fissato e ha detto che il suo amico Nick era fortunato con le mogli. Non credo che se ne sarebbe andato se Balker per caso non avesse rotto la catena e non fosse venuto di corsa sul sentiero di Ghiaia, perché mi trovavo in giardino. Perciò gli ho detto fareste meglio ad andarvene, il cane è assai feroce e io non so trattenerlo. Davvero conoscete un uomo simile? Credo di sapere che sia cara, disse Balstrofe col suo conseto, tono, sommesso di voce. Un disgraziato, miserabile e dissoluto che ha aiutato troppo tanto tempo fa. Probabilmente verrà in banca a chiedere le lemosina senza dubbio. Non tornarono più sull'argomento fino al giorno successivo, quando Mr. Balstrofe fu tornato dalla città e si stava vestendo per la cena. La moglie, in dubbio che fosse arrivato a casa, guardò nel suo spogliatoio e lo vide senza la giacca e senza cravatta, un braccio appoggiato a un cassettone, mentre fissava il pavimento con aria assente. Quando lei entrò, egli sobbalzò nervosamente alzò gli occhi. Date l'impressione di stare molto male, Nicola, c'è qualcosa che non va? Ho un gran mal di capo, disse Mr. Balstrofe, il quale era così di frequente indisposto che la moglie era sempre pronta a credere a questa causa di depressione. Sedetevi e lasciate che ve lo strofini con la spugna in tinta nell'aceto. Fisicamente, Mr. Balstrofe non aveva bisogno dell'aceto, ma moralmente l'affettuosa attenzione le oneni. Sebbene sempre educato, era sua abitudine ricevere tali servigi con freddezza coniugale come un dovere di sua moglie. Ma oggi, mentre lei era china su di lui, gli disse «Siete molto buona, Harriet». In un tono in cui lei avvertì qualcosa di nuovo, non sapeva esattamente in cosa consistesse la novità, ma la sua sollecitudine femminile si concretò nel pensiero fulmino che egli fosse sul punto di cadere ammalato. «Vi ha preoccupato qualcosa?» disse. «Un l'uomo è venuto da voi in banca?» «Sì, era come avevo sopposto. È un uomo che una volta avrebbe potuto essere una persona migliore. Ma hai sprofondato in uno stato di corrotto ubriachezza». «Se n'è andato definitivamente?» chiese Mrs. Budstrow con ansia, ma per certi suoi motivi si astene dall'aggiungere. «È stato assai desgradevole sentirlo definirsi un vostro amico». In quel momento non avrebbe gadito dire alcunché che sottintendesse la sua abituale consapevolezza che le precedenti relazioni del marito non erano state del tutto all'altezza delle proprie. Non che ne sapesse molto, che il marito era stato dapprima impiegato in una banca, che in seguito era entrato in quelli che gli chiamava gli affari cittadini e che si era fatto un patrimonio prima dei 33 anni, che aveva sposato una vedova molto più anziana di lui, una dissenziente e sotto altri aspetti, con ogni probabilità, un partito dagli svantaggi di solito rintracciabili una prima moglie e si è esaminati con l'occhio spassionato di una seconda. Era quasi tutto quanto le era premuto di sapere, al di là dei barlumi che in qualche occasione le storie raccontate da Mr. Balstrow facevano intravedere della sua inclinazione giovanile per la religione, della sua tendenza a fare il predicatore e della sua partecipazione a iniziative missionarie e filantropiche. Lei lo giudicava un uomo eccellente, la cui religiosità era particolarmente intensa per essere un laico, il cui influsso aveva fatto rivolgere la mente di lei alla serietà e la cui parte di beni effimeri era stato il mezzo di elevarla nella scala sociale. Ma amava anche pensare che era bene sotto ogni aspetto che Mr. Balstrow si fosse guadagnato alla mano di Eret Vinci, la cui famiglia era irreprensibile la luce di Middlemarch, una luce certamente migliore di quella che illuminava i viali londinesi o le cappelle dissidenti. La mente provinciale, strana alla riforma, nutriva sfiducia per Londra e mentre la vera religione era dovunque salvatrice, la brava Mrs. Balstrow era convinta che salvarsi nella chiesa era più rispettabile. Desiderava tanto ignorare davanti agli altri che il marito fosse stato un tempo un disenziente londinese che amava passare la cosa sotto silenzio anche quando parlava con lui. Egli era del tutto consapevole di ciò, in effetti da un certo punto di vista gli nutriva un po' di timore per questa moglie ingenua, la cui religiosità acquisita e la cui natura mondana erano ugualmente sincere, che non aveva nulla di cui vergognarsi e che gli aveva sposato per una salda attrazione ancora resistente. Ma i suoi timori erano del genere di quelli propri di un uomo a cui preme conservare la sua riconosciuta superiorità. La perdita dell'elevata considerazione da parte della moglie, come di chiunque altro che non l'odiasse chiaramente per avversione alla verità, sarebbe equivalza all'inizio della morte per lui. Quando lei disse «Se n'è andato definitivamente?», egli rispose «Oh, così spero», sforzandosi il più possibile di conferire al proprio tono una ragionevole non curanza. Ma in verità, Mr. Bustrow era ben lontano da uno stato di tranquilla fiducia. Nel colloquio alla banca, Raffles aveva dimostrato che in lui la brama di tormentare era quasi altrettanto forte quanto qualsiasi altra cupidigia. Aveva francamente ammesso di aver cambiato itinerario per venire a Middlemarch, proprio per guardarsi attorno e vedere se il luogo gli andava bene per viverci. Certamente aveva avuto qualche debito in più da pagare di quanto si aspettava, ma le 200 sterline non le avevano ancora finite. La bellezza di 25 sterline gli sarebbero bastate per andarsene momentaneamente. Ciò che aveva soprattutto desiderato era dividere il suo amico Nick e la sua famiglia e sapere tutto sulla prosperità di un uomo a cui era legato così strettamente. Di lì a poco sarebbe potuto tornare indietro per un soggiorno più lungo. Questa volta Raffles rifiutò di farsi accompagnare alla porta. Come si espresse, declinò di lasciare Middlemarch sotto gli occhi di Balstrow. Aveva intenzione di andarsene quella diligenza il giorno successivo, se gli andava. Balstrow si sentì inerme. Nelle minacce e nelle lusinghe sortirono alcun effetto. Non poteva contare su nessuna paura persistente né su alcuna promessa. Al contrario, Incursu avvertiva la fredda certezza che Raffles, a meno che la provvidenza non lo facesse morire per impedirglielo, sarebbe tornato a Middlemarch entro poco tempo e quella certezza lo terrorizzava. Non che corresse alcun pericolo di misure legali o di essere ridotti in miseria, c'era solo il rischio di veder rivelati al giudizio dei propri concittadini e alla fritta sensibilità della moglie certi fatti del proprio passato che lo avrebbero reso oggetto di disprezzo e un disonore per la religione con cui si era con tanta diligenza identificato. Il terrore di venire giudicato, a cui esce il ricordo, manda un bagliore inevitabile su quel passato da tempo negletto che abitualmente si è ricordato solo in frasi generiche. Anche senza ricordo, la vita è resa un tutto unico da una serie di dipendenze fra sviluppo e decadenza, ma una memoria intensa obbliga uno a riconoscere il proprio biasimevole passato. Con il ricordo nuovamente dolorante come una ferita riaperta, il passato non è semplicemente una storia morta, una preparazione superata del presente, non è un errore di cui ci si è pentiti, scrollato di dosso dalla vita, è ancora una parte palpitante dell'uomo che porta tremori e amari sapori e i fremiti di una vergogna meritata. In questa seconda esistenza il passato di Balstrow adesso era risorto, solo che i piacere di esso sembravano aver perduto la loro attrattiva. Notte e giorno, senza interruzione, se non di un breve sonno, che solo intesseva il ricordo e la paura in un presente fantastico, egli sentiva che le scene della sua vita precedente si interponevano fra lui e qualsiasi altra cosa, con la stessa ostinazione di quando guardiamo attraverso la finestra di una stanza illuminata e invece dell'erba e degli alberi ci sono ancora davanti a noi gli oggetti a cui voltiamo le spalle. Gli eventi successivi, interiori ed esteriori, erano là in un unico quadro. Sebbene ci si potesse soffermare su uno alla volta, gli altri continuavano a conservare la loro presa sulla coscienza. Di nuovo vide se stesso come un giovane impiegato di banca, come una persona gradevole, bravo nelle cifre e come era articolato nel parlare e amante delle definizioni teologiche. Un eminente, anche se giovane membro di una chiesa dissenziente calvinista, Ivory, dopo una straordinaria esperienza della condanna del peccato e del senso del perdono. Ancora si sentì chiamare fratello Balstrò in incontri di preghiera, parlare da tribune religiose, predicare in case private. Di nuovo ebbe l'impressione di considerare il ministero la propria possibile vocazione e di essere inclina al lavoro missionario. Quello era il tempo più felice della sua vita, quello era il luogo in cui avrebbe preferito destarsi ora e trovare che tutto il resto era un sogno. Le persone fra le quali fratello Balstrò era famoso, erano assai poche ma gli erano assai vicine e gli facevano provare ancora maggiore soddisfazione. Il suo potere si estendeva su uno spazio ristretto ma ne avvertiva l'effetto in misura ancora più intensa. Credeva senza sforzo nella particolare opera della grazia dentro di sé e nei segni che Dio intendeva fare di lui, un suo speciale strumento. Poi venne il momento della transizione. Avvenne col senso di avanzamento che ebbe quando lui, orfano istruito in una scuola commerciale per i poveri, fu invitato in una bella villa di proprietà di mister Dunkrick, l'uomo più ricco della congregazione. Ben presto quindi venne amico intimo di famiglia, onorato per la sua religiosità dalla moglie, stimato per la papabilità dal marito, la cui ricchezza proveniva da un commercio fiorente nella City e nel West End. Quello fu l'incitamento per un nuovo corso della propria ambizione e diresse le sue concezioni di strumento della grazia verso l'unione di distinte doti religiose con successo negli affari. Entro breve tempo giunse una decisa guida esterna. Un fidato socio subalterno morì e nessuno parve al direttore tanto adatto a colmare il vuoto così sentito quanto il suo giovane amico Balstrò. Se egli avesse accettato di divenire ragioniere fidato, l'offerta fu accettata. L'attività consisteva in prestiti su pegno del tipo più florido sia per estensione che per profitti e dopo un breve esame di essa Balstrò si rese conto che una fonte di grossi profitti era la facile accettazione di qualsiasi merce offerta senza una severa verifica riguardo alla provenienza. Ma c'era una succursale nel West End e nessuna mischinità o squallore che facesse pensare a una cosa vergognosa. Ricordava i primi momenti di tentenamento, erano intimi ed erano pieni di argomentazioni. Alcune di queste assumevano la forma della preghiera. L'attività aveva delle basi solide e delle antiche radici. Non sono forse due cose distinte? Aprire un bar di lusso e accettare con partecipazione in uno già funzionante? I profitti ricavati da anime perdute? Dove si può tracciare la linea di demarcazione in cui essi cominciano nelle transazioni umane? Non era anche un modo scelto da Dio per salvare i suoi eletti? Tu sai, il giovane Balstrò, aveva detto allora, come l'anziano Balstrò stava dicendo ad esso. Tu sai come la mia anima è distaccata da queste cose, come le consideri tutte strumenti per coltivare il tuo giardino strappato qua e là dalla selvatichezza. Metafore e precedenti non mancavano. Non mancavano particolari esperienze spirituali che infine fecero apparire la conservazione di quel posto un servigio richiestogli. La prospettiva di una fortuna si era già rivelata e l'esitazione di Balstrò rimase un fatto privato. Mr. Dunkirk non si era mai aspettato che ci sarebbe stata la minima esitazione. Non aveva mai pensato che il commercio avesse nulla che vedere col piano della salvezza. Ed era vero che Balstrò si trovò a seguire due esistenze separate. La sua attività religiosa non poteva essere incompatibile con l'attività commerciale, una volta che ebbe convinto se stesso a non sentir letali. Di nuovo assediato mentalmente da quel passato, Balstrò aveva le stesse scusanti. Infatti gli anni le avevano perpetuamente intessute in intricata densità, come masse di ragnatele, imbottendo la sensibilità morale. Anzi, come l'età rendeva l'egoismo più bramoso ma meno gradevole, la sua anima si era maggiormente saturata della credenza che gli facesse tutto per amor di Dio, indifferente a esso per il proprio. Eppure, se fosse potuto ritornare in quel luogo remoto con la sua giovanile povertà, ebbene, allora avrebbe scelto di fare il missionario. Ma il concatenamento di cause in cui si era chiuso proseguì. Nella bella villa di Aybury covava la pena. Anni prima l'unica figlia era fuggita sfidando i genitori e si era data al teatro. Poi l'unico figlio maschio morì e dopo breve tempo morì anche Mr. Dunkery. La moglie, una donna semplice pia, restata con tutta la ricchezza del fiorente commercio, di cui non venne mai a conoscere la precisa natura, era giunta a credere in palstro e ad adorarlo con quell'innocenza con cui spesso le donne adorano il loro prete o ministro fatto uomo. Era naturale che dopo un certo tempo si fosse pensato a un matrimonio fra di loro. Ma Mrs. Dunkirk aveva degli scrupoli e degli estruggimenti per la figlia, che da tempo era stata considerata perduta sia per Dio che per i genitori. Si sapeva che la figlia si era sposata, ma era del tutto scomparsa senza lasciare traccia. La madre, perduto il maschio, sperava di avere un nipote, e desiderava trovare la figlia per due motivi. Se fosse stata trovata la proprietà avrebbe trovato uno sbocco, forse ampio nel caso di diversi nipoti. Bisognava sforzarsi di trovarla prima che Mrs. Dunkirk fosse disposta a risposarsi. Balstro l'aiutò, ma dopo aver messo annunci sui giornali, oltre ad aver tentato altri tipi di indagine, la madre si convinse che la figlia non si potesse trovare ed ha consentì a sposarsi senza riserve sulla proprietà. La figlia era stata trovata, ma solo un uomo oltre Balstro lo sapeva, ed egli venne pagato per tenere il segreto e togliersi di mezzo. Questo era il fatto nudo e crudo che Balstro ora era costretto a vedere nel rigido profilo con cui le azioni si presentano agli osservatori. Ma per lui, in quel tempo lontano e persino adesso nella sua bruciante memoria, il fatto era spezzato in piccole sequenze, ciascuna giustificata quando si presentava da ragionamenti che sembravano dimostrarne la rettitudine. La vita di Balstro era stata, gli pensò, santificata fino ad allora da eccezionali casi della provvidenza, che sembravano indicargli la strada per impiegare nel modo migliore una grossa proprietà, sottraendola ad un uso cattivo. La morte e altri impressionanti avvenimenti, come la fiducia femminile, si erano presentati e Balstro avrebbe adottato le parole di Cromwell. Voi questi li chiamate nudi eventi? Il Signore abbia compassione di voi. Gli eventi erano relativamente insignificanti, ma in essi c'era la condizione essenziale, vale a dire, favorivano i suoi scopi. Fu facile per lui stabilire ciò che doveva ad altri, chiedendo quali fossero le intenzioni del Signore riguardo a se stesso. Poteva essere un servizio a Dio che questa fortuna andasse in qualche considerevole porzione a una giovane donna e al marito che erano dediti alle attività più frivole e avrebbero potuta sperperarla all'estero in banalità. Gente che sembrava trovarsi al di fuori del sentiero degli atti eccezionali della provvidenza? Balstro non si era mai detto in precedenza, la figlia non si deve trovare. Eppure, quando giunse il momento, egli ne tenne nascosta l'esistenza e quando altri momenti seguirono, egli lenì la madre consolandola nella probabilità che l'infelice giovane donna potesse essere morta. Grazie a tutti.